Buonasera a tutti, innanzitutto volevo darvi il benvenuto e ringraziarvi per essere a corsi così numerosi a questo convegno e a questa giornata. Volevo ringraziare anche colui che ci ospita in questa struttura, ovvero Don Marco, presso la Casa della Gioventù di Massino Visconti, e ringraziare anche le autorità presenti che rappresentano la provincia di Novara, Luca Bona e Alessandro Canelli. Io farò un'introduzione riguardante quello che è il progetto e poi lascerò la parola naturalmente ai relatori e all'autorità. Questo convegno è un po' una tappa di un processo che si sta sviluppando sul territorio del Vergante e che vede le amministrazioni comunali sempre più collaborare e interagire tra di loro, sia a livello istituzionale con la conferenza dei sindaci che periodicamente si ritrova per discutere delle varie problemi che ci sono e affrontarli sul territorio del Vergante, sia a livello educativo con la nascita a febbraio del PAVE, cioè del piano integrato educativo del Vergante, che ha l'obiettivo di creare un progetto educativo comune da sviluppare sul territorio del Vergante, coinvolgendo unitariamente tutti i comuni del Vergante. Quindi sulla scia di questa collaborazione, di questa interazione, tutti i comuni del Vergante hanno deciso di presentare un progetto e di partecipare al bando che ogni anno viene organizzato dalla provincia di Novara, cioè il bando APQ 2010. E' stato presente un progetto denominato Pagine per il Futuro, da cui prende il nome anche il convegno odierno, che vede come comune capofila il comune di Paruzzaro. Gli altri comuni che partecipano sono il comune di Colazza, il comune di Invorio, il comune di Lesa, il comune di Massino Visconti, il comune di Meina, il comune di Nebbiuno, Pisano, Oleggio Castello. Poi vi sono varie associazioni che operano in modo stabile sul territorio del Vergante, che sono il PAVE, l'area libra di Oleggio Castello, la Casa della Gioventù di Massino Visconti, lo Ciclev di Invorio, l'Oratorio Invorriese e l'Associazione Industriale di Novara. che è un po' un partner atipico del progetto che si occuperà soprattutto di una fase particolare riguardante l'imprenditoria. Il progetto è stato presentato e ha come tematica principale quello del sviluppo della coscienza civica nei giovani e della partecipazione giovanile. Memore del progetto che già è stato sviluppato sul territorio l'anno scorso, in relazione dal bando APQ, ha come obiettivo principale quest'anno quello di coinvolgere i giovani già nella fase di progettazione e di sviluppo delle azioni e delle iniziative. Anche quest'anno il bando ha ottenuto i favori della provincia ed è stato dichiarato appunto ha vinto il bando. Quindi se oggi siamo qua ed è stato possibile organizzare questo convegno è anche grazie alla provincia di Novara che finanzia effettivamente tale progetto. Quindi con questo introduco coloro che oggi rappresentano la provincia di Novara ovvero il vicepresidente Luca Buona.